Ciao, eccoci su Recensioni Minute pronti a vedere quali sono i giochi di ruolo che mi sono piaciuti nell'arco del 2021. Chiaramente ho iniziato da pochissimo a giocare di ruolo, prevalentemente giocando online causa lockdown, ma questa cosa mi ha permesso di esplorare un po', assaggiare un po' questo mondo che avevo sempre visto un po' distante dal mondo del gioco da tavolo, mentre ci ho trovato alcune analogie e chiaramente anche tante differenze. I numeri di quest'anno sono stati che ho giocato 27 partite di ruolo a 18 giochi diversi. Non so se siano tantissimi, pochissimi, insomma mediamente non so quanto si gioca di ruolo per chi è appassionato di questo mondo, ma credo di aver assaggiato davvero tante cose diverse e quindi mi sembrava interessante potervi dare il parere sui miei 5 titoli che ho preferito. Sono titoli di cui trovate chiaramente alla recensione minuta sul mio canale e che sono frutto della mia esperienza personale, quindi non saprei valutare quanto magari le meccaniche sono originali, interessanti, particolari, insomma qualcosa che mi ha colpito e che mi fa venire voglia di dire ok voglio rigiocarlo sicuramente. Partiamo! In quinta posizione troviamo Persi nella pioggia di Vivienne Fesson edito da Narrativa. In questo gioco impersonerete dei bambini, più o meno grandi deciderete voi, che si perdono nella pioggia a un certo punto in un mondo in cui scompaiono di colpo gli adulti. Sono bambini quindi che non sanno bene che cosa succede ma intorno a loro ci sono del pluvarpie che faranno sparire tutti i bambini, nessun bambino sarà più ritrovato a parte uno. È un gioco molto intimo ed è un gioco molto cattivo in cui dovete imparare a non affezionarvi al vostro personaggio. Come vi dicevo tutti i bambini scompariranno quindi mentre un giocatore sarà il bambino quindi sarà quello con il riflettore puntato che porterà avanti l'avventura, che esplorerà, magari scoprirà che ci sono delle cose avventurose da fare, ci saranno dei problemi eccetera, tutti gli altri giocatori interpreteranno in qualche modo il male. Potrebbero fare inscenare proprio le pluvarpie oppure far leva sulle sue paure, modificare quello che c'è nell'ambiente, modificare il clima atmosferico proprio per fare in modo che questo bambino piano piano perde i legami con gli altri bambini. È un gioco quindi in qualche modo anche straziante da alcuni punti di vista. Quando i bambini se ne vanno è un dispiacere chiaramente per il giocatore che aveva quel personaggio ma anche per gli altri perché davvero iniziano a vivere. E a volte l'essere necessariamente cattivi è come se non voleste farlo. Non siete obbligati ma il gioco chiaramente finisce quando davvero tutti i bambini sono stati strappati dalla realtà. Quindi è un'esperienza da provare a fare con le dovute cautele. Quindi fate attenzione da questo punto di vista. Però se davvero pensate di giocarlo troverete un'esperienza molto appagante e che vi rimarrà addosso tutta questa pioggia, queste pluvarpie e potete sfruttare anche delle immagini che trovate in rete come suggerito dal manuale per rendere ancora più vero e immersiva tutta l'atmosfera. In quarta posizione troviamo le piccole cose obliate di Sylvie Guillaume e Christophe Boeckle edito da Dreamlord e Nessun Dove. È un gioco di ruolo per due giocatori composto solamente da alcune cartoline che potrete nel caso siate più scafati con questo gioco sostituire anche con vostre vere e proprie fotografie. L'importante è che non ci siano delle persone all'interno. In cosa consiste? Due giocatori hanno vissuto una bellissima storia d'amore e si inizia raccontando proprio come si sono conosciuti questi due giocatori. Ma questa storia d'amore si sa che è finita e quindi si stanno facendo delle sessioni per decidere se cancellare completamente i propri ricordi oppure mantenerli. Ogni sessione dello psicologo vede una di queste fotografie che può raccontare un momento tiptopico della coppia un qualcosa che si ripeteva sempre, qualcosa che faceva infuriare la coppia qualcosa che ha decretato la dottura. Insomma i giocatori pian piano racconteranno che cosa quelle foto hanno rappresentato all'interno della loro storia d'amore e alla fine dovranno prendere questa decisione. È un qualcosa che vi posso dire che avvicina molto i due giocatori anche se siete semplicemente amici. Io ho giocato anche una partita con un mio amico vero e proprio e mi hanno deciso di fare una coppia di due maschi appunto in questo modo e in qualche modo si creano dei legami come se questa storia d'amore davvero esistesse come se la decisione di cancellare questi ricordi fosse un po' triste perché comunque sono dei ricordi che ci sono, è vero che sono dolorosi ma il fatto che cresce, che ci sono state delle cose, delle sfuriate ma anche delle scene belle vi fa percepire questa storia d'amore è come quando si guardano i film d'amore in tv o al cinema fondamentalmente in cui riuscite in qualche modo a sentirvi partecipi di questa storia qua la rendete proprio vera e propria chiaramente giocare con le proprie foto rende ancora più spessa l'esperienza quindi fate attenzione nel senso se non volete che si trasformi in qualche modo in una terapia di coppia perché sì, ok, potete scegliere dei personaggi che non siete voi però se cominciate a dire che questa cosa vi dava fastidio in relazione a una vostra foto potrebbe scatenare qualcosa all'interno del party quindi se siete pronti poi a gestire tutta questa parte le piccole cose obliate è un gioco per due delicatissimo in qualche modo e che vi fa scoprire qualcosa di più di quello che voi percepite all'interno dell'amore arriviamo sul podio in terza posizione troviamo Biblio Versum di Marcello Bertocchi edito da XV Games e Studio Supernova in questo gioco di ruolo i libri prenderanno vita quindi avrete un libro scelto insieme da tutti quanti che decreterà l'universo in cui giocherete quindi o voi entrerete all'interno del libro o il libro entrerà nella nostra realtà e poi ognuno avrà il suo libro preferito che aiuterà a risolvere i problemi cioè si leggono dei pezzi dal libro principale e quegli spezzoni vengono declinati secondo il mood che avete deciso voi quindi un libro avventuroso può diventare un noir una storia d'amore può diventare un horror e così via dopodiché ognuno prende dal giocatore principale diciamo di quel capitolo prenderà un pezzettino del libro che si è portato dietro per declinarlo nella risoluzione della problematica può decidere di far materializzare delle cose può dargli dei poteri può dargli delle competenze insomma leggete uno spezzone che scegliete dal vostro libro o lo pescate a caso e lo trasformate a seconda del tono dell'avventura e della problematica che avrete davanti potreste riuscirci potrete non riuscirci ma man mano dovete arrivare a un finale diciamo non un vero e proprio finale dell'avventura ma una sorta di fine della prima puntata dell'avventura che avrete decretato all'inizio della giocata questa cosa aiuta molto a tenere contenuti i tempi e a non sparare troppo a casaccio cercherete comunque di arrivare lì se dovete arrivare in un punto se deve succedere un qualcosa che non c'entra niente con quello che state facendo qualcuno prima o poi inizierà a far virare la vostra avventura quindi se siete nelle catacombe eccetera ma poi dovrete essere sopra la cima di una montagna in qualche modo qualcuno comincerà a parlare di questa montagna comincerà a darvi all'esterno oppure troverà nelle catacombe una sorta di mondo per arrivare a quella montagna insomma ben congegnata questa idea bellissima l'idea di portarsi i libri e più i libri sono distanti fra loro come tematica, come argomento come spessore anche del libro allora più è bella l'esperienza di gioco quindi Bibbiloversum davvero mi ha colpito per questa freschezza nell'idea in posizione numero 2 troviamo Dialect di Catherine Himes Hakan Seyal Yoglu edito da narrativa gioco del 2016 che ha visto la nascita con un kickstarter ha vinto un sacco di premi vabbè io ci sono arrivato un po' più tardi ma ci sono arrivato sapete quanto a me piace giocare con le parole capire l'entibologia delle parole sfruttare magari accezioni diverse delle parole per rendere più interessante la frase ecco in questo gioco voi farete nascere e morire un linguaggio da zero creerete una comunità creerete dei personaggi e il gioco man mano vi chiederà di creare nuove parole oppure accezioni diverse a parole già esistenti oppure modificarle in questo modo man mano il vostro linguaggio assumerà sempre più le forme di quello che effettivamente siete di quello che effettivamente vivete tanto per farvi un esempio se tutte le volte che nasce qualcuno c'è un solo libro in tutto il mondo in cui viene scritto il nome con una penna particolare potreste decidere che entrare nel libro è la vostra parola per nascere quindi non avete la parola nascere ma avete questo entrare nel libro e a quel punto quando uno dice cancellare dal libro potrebbe essere la parola per morte vi ho fatto un esempio così buttato alla veloce per farvi capire come possono essere declinate questo linguaggio ha una duplice valenza non solo la comunità crea il linguaggio ma scoprirete che poi in funzione di come usate il linguaggio creerete dei rituali per la comunità in qualche modo torna indietro quindi un qualcosa che ha un'accezione proprio per questo magari all'interno di una festa può diventare motivo di creare una nuova festività per la vostra comunità e man mano questo linguaggio si consumerà sarà sempre più faticoso utilizzarlo succederanno le cose che lo faranno morire perché magari ci sono commissioni con altre culture oppure finisce la comunità insomma c'è questa parte un po' drammatica alla fine che però vi permette di conservare questo linguaggio un linguaggio che si apre e si chiude e per voi e per i vostri amici potrà essere anche utilizzato in qualche modo per anche nelle sessioni future di altri giochi o anche nel mondo reale alcune parole potrà essere molto carino sfruttarle mi piace tantissimo questo dialect mi ha colpito molto questa idea di generare parole ci sono anche nel manuale modi per creare parole inesistenti per creare le sillabe per dare un suono più dolce, più aspro quindi molto interessante anche dal punto di vista linguistico bene, seconda posizione, meritatissima in prima posizione metto Never Tell Me The Odds di David Somerville Edito Nessun Dove e Dreamlord perché? Perché mi ha gasato tantissimo in questo gioco di rivuolo dovete impersonare delle canaglie spaziali quindi come può essere Ansolo come può essere il capitano dell'affare Fla insomma avete capito qual è il genere e vi succedono tantissime cose una dietro l'altra quindi avete il vostro personaggio che si butta in un problema ne riesce a uscire per il rotto della cuffia e quel problema si trasforma in un altro problema e man mano che risolve l'altro problema comunque prima di tirare il fiato sa che c'è un'altra cosa a cui deve fare attenzione magari nascondersi mentre si nasconde comunque c'è un problema insomma adrenalina a tutto spiano e come funziona il tutto lanciando delle monete voi potete scommettere alcune delle vostre caratteristiche avete sei caratteristiche che potete decidere di scommettere e man mano queste caratteristiche potrebbero mantenersi come tali insomma continuate ad avere le vostre caratteristiche principali che possono essere conoscenze competenze diretture morali frasi tipiche che sfruttate sempre ma potrebbero anche lanciando questa moneta piano piano perdersi quindi pian piano perdere l'identità del vostro personaggio alcuni problemi grossi che possono pararvisi davanti potrebbero necessariamente chiedere di scommettere non una vostra caratteristica ma proprio il vostro nome e quindi la vostra vita il vostro essere canalia spaziale che può essere un rinnegato o quello che volete voi potrebbe essere anche un militare insomma decidete voi l'importante è che sia uno che vive un po' ai margini che gioca sempre tutto quanto su questo bordo della moneta tra il riuscire e il non riuscire per avere adrenalina e per poter gustarsi la vita fino in fondo mi è piaciuto tantissimo e l'idea che all'interno del manuale ci siano anche tantissime tabelle per creare nuovi personaggi antagonisti compagni proprio delle vere e proprie razze con già degli esempi di cose che vi possono chiedere o cose che vi possono far capitare anche solo se la vostra astronave sbatte su qualcosa all'interno dello spazio ci sono le tabelle per decidere su cosa è stato sbattuto quindi non dovete nel corso dell'avventura se anche state improvvisando come master un qualcosa in più pensarlo e magari rompere il ritmo semplicemente tirate il dado e pescate da quella tabella in qualche modo i giocatori reagiranno e funziona molto bene questo gioco come vi dicevo mi ha gasato mi ha fatto decidere di provare a fare anche il master per la prima volta quindi ho scritto io una piccola avventura e mi è piaciuta molto l'idea di poter veicolare problematiche ma non a catena a caso semplicemente problemi che possono essere sempre più grossi o comunque problematiche che si risolvono una cosa a chiudere una falla ma ne apre un'altra secondo me è ben reso il fatto che sia poi ambientato nello spazio rende ancora di più la possibilità di spaziare scusate il gioco di parole sempre più ampio quindi prima posizione che trovo meritatissima bene grazie per essere arrivati fino a qua spero che questa top 5 vi abbia in qualche modo convinto avvinto o anche deluso perché no come vi dicevo ho giocato abbastanza giochi da permettermi di dire questi mi sono piaciuti meno questi mi sono piaciuti più questi non lo giocherei questo no ma chiaramente non ho un'esperienza a tutto tondo quindi se volete anche suggerirmi qualcosa da provare in questo 2022 sono aperto a tutte le vostre proposte l'importante è che sia reperibile non datemi qualcosa di uzbeko che ce ne sono solo due copie nel mondo insomma volentierissimo e non dimenticate di scrivermi qua sotto com'è andato questo video lasciatemi il pollice su il pollice giù trovate in descrizione i miei link per i canali social così non vi perdete niente in recensioni minute ma soprattutto in recensioni minute troverete anche le minute di questi giochi di cui vi ho parlato come vi dicevo in introduzione in 5-6 minuti vi fate un'idea e decidete se andare avanti se poi volete sostenere il canale potete acquistare appunto i link qua sotto potete acquistare magliette sempre con il link qua sotto oppure donarmi direttamente un caffè in questo modo sbloccate i contenuti extra ma tutto quello che raccolgo con queste modalità lo reinvesto nel canale per rendere sempre tutto molto più figo e molto più recensioni minute bene vi saluto con un ciao e alla prossima chiaramente più i libri sono distanti fra di loro più l'esperienza è bellissima da avere al tavolo perché se iniziate come lo avevamo fatto con Hucca Capitanoncino come mood e poi grazie a tutti a tutti